Benvenuti in un nuovo video, torniamo a parlare di psicopandemia, sono uscite delle notizie pazzesche e tuttavia quello che parlerò in particolare in questo video è quali sono i profili psicologici delle persone che attaccano i No Green Pass. Sembra veramente una situazione assurda ma delle persone che magari fino a qualche tempo prima andavano d'amore d'accordo, dopo che è iniziato a esserci questa situazione psicopandemica non riescono più a comunicare. Questa cosa è successa sia in contesti religiosi ma anche in contesti politici ma anche all'interno delle stesse famiglie quindi secondo me è interessante capire come mai è accaduta una cosa del genere. In queste situazioni emergenziali le persone reagiscono sempre in modi diversi, c'è chi che prende la cosa con l'ironia, c'è chi che prende la cosa magari arrabbiandosi con quelli che la pensano in modo diverso e ci sono altre persone che alla fine sono semplicemente degli zombie ipocondriaci e di fatto seguono l'opinione dominante sul tema. Io personalmente ho seguito la via dell'ironia, mi potete seguire sui canali telegram, te consapevole per quanto riguarda la tecnologia e te consapevole cripto per quanto riguarda le criptovalute. Di fatto ho reagito creando questo bellissimo NFT commemorativo che appunto è dedicato ai transvax ovvero le persone che si sentono siringate nonostante si trovino su un corpo di un non siringato. Questa cosa è veramente curiosa, secondo me è importante ricordarsi di quello che sta succedendo in questo momento perché in futuro le stesse dinamiche potrebbero accadere in altri contesti. Se volete partecipare a questo esperimento di questo NFT è un NFT che ha un altissimo valore simbolico e attualmente vale 432 biliardi quindi con la B 317 bilioni di dollari. Ovviamente se volete fare la vostra offerta potete cliccare qui su make offer e magari proporre un prezzo diverso per questo oggetto unico. Ok allora iniziamo con la prima notizia che mi ha colpito ultimamente ed è quella appunto di questo immunologo che dice che i vasini sono efficaci anche contro la variante Omicron quindi quella del Sudafrica. Tuttavia servirà anche la quarta dose. Qui veramente situazione pazzesca. Siamo arrivati a tre seringhini booster, quarto seringhino aggiornamento. Tra l'altro c'è stato anche l'annuncio di Moderna che ha annunciato che ci sarà appunto questo aggiornamento e sarà interessante vedere come si comporteranno a questo punto i BVACS se andranno verso la strada NOVAX oppure se andranno verso la strada TRIVACS quindi quelli che hanno avuto la terza basinazione. Per vedere effettivamente quanto saranno grandi questi blocchi di persone secondo me bisognerà aspettare il 31 dicembre visto che molti basini appunto scadono verso quella data. L'altra notizia interessante di questo periodo psicopandemico è questa. ci sono tantissime notizie di questo tipo. Qui si parla di una persona che rinvia la terza dose del vasino, ex carabiniere, muore a 89 anni. Lo so si tratta di una notizia che non è positiva però veramente creare questo allarme secondo me ingiustificato è veramente ridicolo e onestamente non so come le persone possano ancora continuare a guardare la spazzatura che passa sul mainstream. Perché faccio questa affermazione? Perché se noi andiamo a vedere l'età media italiana voi potete andare su Google cercare appunto aspettativa di vita media in Italia e il risultato che vi viene è 83 anni. Quindi lo so sarà brutto da dire ma una persona di 89 anni che purtroppo non fa la terza dose e poi muore obiettivamente secondo me non è neanche una notizia. Però di fatto queste cose continuano a circolare e fin quando le persone non capiscono continueranno ancora a circolare e si andrà avanti con le dosi. Non vedo altre alternative da questo punto di vista. L'altra cosa che ho notato è che appunto c'è stata una divisione veramente grossa tra le persone che seguivano una radio di area anarchica e appunto molte persone hanno fatto delle critiche e queste critiche secondo me sono interessanti per capire quali sono le motivazioni che ci sono dietro questa situazione. La prima fascia di persone secondo me io le definirei appunto totalitari ma non abbastanza sono le persone che dicono il vasino funziona ma visto che non abbiamo raggiunto una certa percentuale x questa cosa non funziona e questo tipo di modo di ragionare mi ricorda appunto un meme che era circolato qualche tempo fa dove c'era appunto Bassetti che diceva se tutti avessero messo la crema solare non mi sarei bruciato. E' interessante vedere come questo questo format in realtà potrebbe essere utilizzato per tantissimi altri contesti nel senso un arriva dice questa è la soluzione ma se x per cento non l'adotta questa cosa non funzionerà. E questo modo di ragionare per me è un modo totalmente incompatibile con il mio modo di pensare è un modo assolutamente totalitario. Tra l'altro queste persone sono le stesse che nonostante sono seringate hanno paura dei non seringati cioè alla fine se hai fatto questa cura per proteggerti in teoria non dovresti aver paura delle persone che magari hanno fatto una scelta diversa. L'altra categoria di persone vi lascio poi il link in descrizione di questo thread e anche della mucchina siringhina che legge queste cose sono i non egoisti nel senso sono le persone che hanno fatto il vasino non tanto per loro ma si sono bucate per proteggere gli altri quindi sono persone che secondo me lo fanno diciamo a fin di bene di fatto la realtà è che tutte le persone sono egoiste solo che si dividono nelle persone che che lo ammettono e le persone che che non ammettono questa cosa e a queste persone li potrei solo dire che se veramente non sono egoiste in teoria dovrebbero tenere delle porte che non hanno le serrature visto che appunto non sono egoisti non dovrebbero avere questi problemi. l'altra tipologia di commenti invece è quella che definirei come delegittimanti ma inclusivi sono persone che all'interno di questo thread hanno parlato di altri argomenti come del fatto di parlare dei salari bassi ovviamente può essere una problematica legittima di fatto l'argomento il topic era un altro sicuramente questa sarà una problematica in futuro ovvero tra le persone che riescono a monetizzare su internet e le persone che non riescono a monetizzare su internet di fatto anche qua non non mi sembra una cosa sensata se se uno appunto altri temi da trattare obiettivamente ci sono anche altri contesti per trattare questi temi e ultima no penultima categoria sono quelli che definirei scientisti green che rientrano anche nella categoria dei grettini sono quelli che prendono queste cose come un qualcosa di dogmatico ovvero i vasini sono la soluzione e quindi di fatto non c'è argomento di dibattito peccato che anche se fosse una soluzione scientifica magari le persone decidono di comportarsi in modo diverso non c'è un sistema operativo che è garantito dalla scienza ognuno utilizza quello che ritiene opportuno per la propria situazione e magari nel contesto del vasino una persona ha visto le tabelle di rischio e magari decide che preferisce rischiare questa cosa visto che la gran parte delle persone guerriscono piuttosto che andarsi a curare per un qualcosa che che non ha oppure in alcuni casi uno può anche decidere magari di non curarsi e l'ultima categoria che è quella che è un ponte tra tra i due estremi secondo me è quella dei no green pass ma che però sono a favore a favore del dell'obbligo vasinale la gran parte delle persone che secondo me sono no green pass di fatto hanno fatto i vasini obbligatori per lo meno quando erano bambini e in effetti la cosa che mi sembra logica dire è che se lo stato vuole iniettarmi qualcosa nelle vene di fatto dovrebbe prendersi lui la responsabilità a maggior ragione che mi ritengo sano magari in un certo momento e anche qua il punto che mi dà abbastanza fastidio e che siamo passati a considerare le persone da sane fino a prova contraria a malate fino a prova contraria e altre notizie che invece volevo farvi vedere era quella che è uscita questa notizia che in romania nonostante ci siano pochi basinati di fatto i contagi sono scesi e l'altra notizia curiosa che passato ultimamente è questa che delle cose che sarebbero veramente ovvie in qualsiasi altro periodo storico diventano come delle cose particolari questa notizia parla del fatto che i no green pass si stanno organizzando per fare gli home bar quindi si sono anche inventati un neologismo per definire i festini in casa ovviamente dal 6 dicembre per andare in bar e ristoranti è richiesto il super green pass quindi con tre siringhini e di fatto le persone si si organizzano come possono non è che uno magari cambia il proprio stile di vita perché il resto del mondo impazzito e questa cosa è in particolare molto curiosa perché mi è capitato di conoscere una persona dell'iran e lì praticamente accade la stessa cosa quindi si fanno i festini in casa perché per motivi religiosi appunto non non c'è la musica non si possono fare festini e cose di questo tipo di fatto non è perché un certo tipo di attività viene limitato che che le persone poi non possono organizzarsi e farlo allo stesso modo e l'altra cosa che mi ha dato molto fastidio e che questo tipo di battaglia è stata perlomeno all'inizio vista come un qualcosa di di destra e io su questa cosa subito ho fatto vedere un video che l'ho chiamato in modo provocatorio fascisti neri dove già dal 14 agosto questa qui è una manifestazione come avete visto ci sono persone nere che di fatto anche loro hanno partecipato a diverse manifestazioni con i bonghi e quindi contestualizzare questo tipo di lotta come qualcosa di destra o di sinistra onestamente mi sembra veramente fuorviante appunto questa cosa inizialmente era vista come un qualcosa di destra e la cosa curiosa è che in svizzera quindi un paese sovrano la maggioranza delle persone ha votato e ha votato a favore del green pass quindi anche qua è un qualcosa veramente grave nel senso che la maggioranza delle persone ha votato per un trattamento sanitario obbligatorio per delle persone che appunto non volevano questo tipo di cosa e ovviamente non è una cosa piacevole secondo me ognuno veramente deve trovare la propria soluzione in base al proprio stato non voglio dare consigli da questo punto di vista di fatto appunto queste erano le cose che ritenevo più interessanti che sono uscite ultimamente che dire questa è la realtà dovete impararla accettare questo tipo di cose e io ho iniziato ad accettare questo tipo di situazione e nel caso dovesse servire qualsiasi cosa a questo punto può essere utilizzata questo è tutto come sempre lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti ciao a tutti ciao